Musica Pioggia di condanne nel processo rinascita Scott in aula bunker alla mezza terma e la lettura della sentenza del processo di primo grado alla sbarra 338 imputati presunti esponenti dell'andrangheta vibonese. Regge il quadro accusatorio formulato nei confronti di capi, gregari e fiancheggiatori delle cosche. Rinascita Scott a Giancarlo Pittelli, condannato a 11 anni. L'avvocato ed ex parlamentare accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Condannato a un anno e sei mesi l'ex consigliere regionale Pietro Giamborino, assolti l'ex sindaco di Pizzo Gianluca Caldipo e Luigi Incarnato. Nessun aspetto del tessuto economico e sociale di Vibo era libero da condizionamenti. Così il procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Capomolla, al termine della lettura della sentenza di primo grado nel processo che ha decapitato le cosche vibonesi. Somministravano farmaci falsi due medici sospesi per un anno. Si tratta di un ex primario di oncologia del GOM e del suo vice. I due professionisti sono accusati anche di falsità materiale ed ideologica, abuso d'ufficio e truffa. Sette le persone indagate. De Salazar inaugura il polo oncoematologico al Mariano Santo, il commissario dell'azienda ospedaliera Abruzia, il polo e il più importante della provincia. Stiamo raggiungendo quasi tutti Lea e poi annuncia concorro per il ruolo di direttore generale dell'azienda ospedaliera. Buonasera, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con il ATG dell'altro Corriere TV. In apertura la sentenza attesa del processo di primo grado rinascita Scott. I giudici del Tribunale collegiale di Vibo Valencia hanno emesso infatti questa mattina la sentenza alla sbarra 338 imputati appartenenti quasi tutti alle cosche vibonesi. Sentiamo allora nel servizio quali sono state le condanne. È una sentenza storica quella pronunciata oggi alla mezza terme dal Tribunale di Vibo Valencia nell'ambito del processo scaturito dalla celeberrima maxi operazione rinascita Scott scattata all'alba del 19 dicembre di quattro anni fa. Numeri da record per il processo celebrato nell'aula bunker costruita appositamente con ben 338 imputati. Stamane la presidente Brigida Cavasino ha pronunciato la sentenza emessa dal collegio giudicante. Condanne sono state inflitte all'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver favorito, grazie al proprio patrimonio di conoscenze, la cosca Mancuso di Limbadi. Per lui la DDA aveva invocato una pena di 17 anni di carcere e i giudici lo hanno condannato a 11 anni. Pittelli, secondo l'accusa, avrebbe estigato il tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Giorgio Naselli ad acquisire notizie coperte da segreto d'ufficio. Quest'ultimo è stato condannato a due anni e sei mesi. Secondo l'accusa, a ricevere i servigi di Pittelli sarebbe stato l'imprenditore Rocco Delfino condannato alla pena di 5 anni di reclusione. L'accusa aveva chiesto 12 anni. L'ex finanziere Michele Marinaro è stato invece condannato a 10 anni e sei mesi, 17, la richiesta della procura. Tra i colletti bianchi condannati, l'avvocato di Vibo Valencia, Francesco Stilo, per lui pena di 14 anni a fronte di una richiesta di 15. Condannato ad un anno e sei mesi anche l'ex consigliere regionale Pietro Giamborino a fronte di una richiesta di 20 anni. Sul fronte dei politici e degli amministratori locali coinvolti, assoluzione per l'ex sindaco di Pizzo ed ex presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo. Per lui la DDA di Catanzaro aveva chiesto la condanna a 18 anni di reclusione. Assolto l'ex assessore e consigliere regionale Luigi Incarnato. A retto per intero il quadro accusatorio formulato nei confronti di capi, gregari e fiancheggiatori delle cosche vibonesi con le condanne più pesanti, 30 anni di reclusione, inflitte al presunto boss di San Gregorio di Pona, Saverio Razionale a Paolino Lobianco, figura di vertice a Vibo Valencia, e dal presunto boss di Santonofrio, Domenico Bonavota. Condannati assieme a quest'ultimo i fratelli Domenico e Nicola Bonavota, a 30 e 26 anni, e Salvatore Bonavota a 16 anni. 24 anni poi per Francesco Barbieri, ritenuto il capo cosca di Cessaniti, stesso numero di anni per il tropeano Antonio Larosa. Ogni aspetto del tessuto economico e sociale di Vibo Valencia era condizionato dalle cosche, così il procuratore aggiunto di Catanzaro Vincenzo Capomolla alla lettura, al termine della lettura della sentenza di primo grado nel processo rinascita Scott. Capomolla commenta anche l'assenza in aula della procuratore Gratteri. Guardi, non sono io a doverlo dire, ma è la posizione, i ruoli che vengono ricoperti in un determinato momento sul piano delle istituzioni appunto, che determinano poi la partecipazione o meno del soggetto che ricopre il ruolo ad un'attività processuale. Oggi era un'attività processuale, era la conclusione con la lettura del dispositivo del processo cosiddetto rinascita Scott. Guardi, intanto è giusto dire, ribadire, che siamo di fronte ad una sentenza di primo grado, quindi non è una sentenza ovviamente passata in giudicato, quindi tutto quello che ogni valutazione che verrà fatta deve tenere conto di questa circostanza. Dopodiché la pervasività della organizzazione criminale nella provincia di Vipo Valenza era così radicata, così diffusa, così allarmante, così inquietante, che penso possa essere rilevato come non ci fosse nessun aspetto della vita, del tessuto economico sociale della provincia che non fosse condizionato dalla capacità della forza di intimidazione di questa organizzazione criminale così pericolosa. Questa ovviamente è la sentenza che è all'esito del processo dibattimentale, del processo ordinario, che segue una sentenza che già c'è stata sul versante del rito abbreviato per le posizioni che hanno scelto il rito abbreviato. Questa sentenza segue quella ed entrambe confermano la struttura criminale della organizzazione drangletistica nella provincia di Vipo Valenza che fa capo alla famiglia Mancuso. Quindi l'ulteriore conferma sta proprio anche in questa decisione di oggi. Visita oggi in Calabria del Vicepremiere e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Matteo Salvini. Dopo una prima tappa al porto di Gioia Tauri, l'inaugurazione di una nuova sede della Lega a Reggio Calabria, Salvini ha incontrato nella sala Giuditta Levato del Consiglio regionale un folto gruppo di sindaci per un confronto sugli investimenti programmati sulla strada statale 106. In Calabria questo governo sta investendo una cifra che nessun governo in passato ha mai investito. 30 miliardi solo tra strade, autostrade e ferrovie. E il Vicepremiere e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, a fare tappa in Calabria a Reggio dove tra l'altro ha incontrato decine di sindaci della fascia ionica per la statale 106. Che nessun governo in passato ha mai investito 30 miliardi solo tra strade, autostrade e ferrovie. Penso alla progettazione dell'alta velocità finalmente fino a Reggio Calabria. Penso ai miliardi per la 106. Oggi pomeriggio incontrerò 50 sindaci per coordinare i lavori. Penso ai lavori sull'autostrada 2. Penso all'aeroporto di Reggio, all'aeroporto di Giammezi, al porto di Gioia Tauro che ho visitato stamattina e che difenderò a Bruxelles dalle nuove tasse europee. Nella sua tappa regina Salvini ha ufficializzato il passaggio alla Lega dei consiglieri comunali Mario Cardia e Armando Neri e del consigliere regionale Giuseppe Mattiani. Salvini poi si è soffermato sul porto di Gioia Tauro a rischio per la prossima entrata in vigore di una direttiva europea sulle emissioni inquinanti. Sarò a Bruxelles personalmente come ministro dei trasporti lunedì 4 dicembre per chiedere lo stop e il rinvio di una tassa che rischia di danneggiare i porti italiani ed europei e di avvantaggiare i porti nordafricani. Sotto la lente di ingrandimento ovviamente il progetto del ponte sullo stretto in democrazia è giusto che ognuno manifesti, dice Salvini, ma è assurdo che si dica no ad un'infrastruttura che darà decine di migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia. Mi sembra strano da ministro e da genitore che in due terre straordinarie ma che chiedono lavoro come la Calabria e la Sicilia ci siano persone che dicono di no a un'infrastruttura che darà decine di migliaia di posti di lavoro in Calabria e in Sicilia. Andiamo avanti con la cronaca. I finanzieri del comando provinciale di Catanzaro coordinati dalla procura della Repubblica di Lamezia Terme hanno dato esecuzione al decreto con il quale il GIP presso il Tribunale di Lamezia ha disposto il sequestro preventivo di circa 2.250.000 euro nei confronti di una nota società lamettina operante nel settore dei rifiuti e della rappresentante legale sussistendo gravi indizi di reato di malversazione di risorse pubbliche e per la correlata ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente. La società sfruttando il cosiddetto decreto liquidità una delle misure adottate per il rilancio dell'economia nel periodo della pandemia aveva ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro per potenziare gli impianti ed acquistare macchinari strumentali all'attività di impresa. Le indagini svolte dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro hanno consentito di ipotizzare con alto grado di consistenza indiziaria che l'azienda abbia invece destinato parte della somma a finalità estranea a quelle indicate nella richiesta di finanziamento. E ancora, per la cronaca, i carabinieri del NAS di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto temporaneo di esercizio della professione medica per la durata di 12 mesi nei confronti dell'ex primario dell'unità operativa complessa di oncologia del GOM in carica fino allo scorso settembre del suo vice per i reati di somministrazione di farmaci guasti falsità materiale ed ideologica abuso d'ufficio e truffa. L'attività investigativa condotta da marzo 2021 a dicembre 2022 che vede complessivamente coinvolti sette indagati trae origine dalla denuncia querela di un dirigente medico che aveva rilevato delle anomalie sul diario clinico di un paziente oncologico. E quindi la sanità, continuiamo a parlare di sanità in questo caso però in un'accezione positiva con l'inaugurazione da parte del commissario dell'azienda ospedaliera di Cosenza, l'italiano De Salasarra del Polo Onco-Ematologico alla Mariano Santo. Vediamo. Più è grave la mattia, più l'accoglienza e la presa in carico deve essere forte perché è stato dimostrato che l'accoglienza è parte integrante della cura. Nel 2016 era iniziato l'iter per la realizzazione del Polo Oncologico al Mariano Santo di Cosenza che oggi è realtà. L'inaugurazione è avvenuta nel presidio che sorge su Contrada Muoio Piccolo con un ruolo importante affidato al Polo Onco-Ematologico nel solco della riorganizzazione dei servizi sanitari dell'azienda ospedaliera di Cosenza guidata dal commissario italiano De Salasar. Concluso un cammino che era già stato tracciato per onestà in precedenza però era tutto fermo ci siamo messi sotto siamo in ritardo, devo dire, qualche mese rispetto a quello che avevo detto però il tracciato era chiaro, il percorso chiaro e siamo con grande orgoglio e con grande soddisfazione di tutti noi abbiamo portato a termine il Polo Onco-Ematologico importante di tutta la provincia e non solo. Il commissario è protempore anche alla guida di Azienda Zero il nuovo ente di governance della sanità calabrese sul futuro però De Salasar pare non avere nessun dubbio. Io sono venuto qui per l'ospedale di Cosenza per il grande progetto che si sta realizzando con l'università, non dimentichiamo c'è un progetto agli albori che però sta già vedendo i suoi frutti quindi io sarò, ovviamente, se riuscirò a vincere la selezione il direttore generale dell'ospedale di Cosenza. E tra un mese il commissario traccerà un bilancio del primo anno del proprio mandato ma ai nostri microfoni anticipa i risultati che giudica assolutamente positivi. Abbiamo prodotto salute molto di più stiamo raggiungendo quasi tutti l'EA che sono i livelli essenziali di assistenza perché invito tutti, anche la stampa, a ragionare sui numeri perché la sanità sono dati. E dal prossimo mese di ottobre anche gli specializzanti dell'Unical frequenteranno il nuovo polo oncoematologico al Mariano Santo lo ha affermato il rettore Nicola Leone annunciando la prossima attivazione di una scuola di specializzazione in oncoematologia all'Università della Calabria. Era il 23 marzo 2023 quando gli studenti del secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia e tecnologie digitali dell'Università della Calabria hanno iniziato l'attività di esercitazione prevista all'interno del proprio percorso curriculare nelle strutture dell'azienda ospedaliera annunziata di Cosenza. Il primo passo della formazione dei futuri medici nei laboratori del nosocomio Bruzio. È un percorso, quello che porterà l'ospedale di Cosenza a diventare un polo universitario che procede rapidamente come sostiene ai nostri microfoni il rettore dell'Unicala Nicola Leone che annuncia anche l'avvio di una scuola di specializzazione in oncoematologia. Oncologia ed ematologia sono due reparti che tra i primi reparti che prenderanno la guida universitaria. vi anticipo che stiamo proprio in questi giorni lavorando per l'attivazione di una scuola di specializzazione in oncoematologia quindi già dal prossimo ottobre avremo se tutto procederà secondo i piani degli specializzanti che frequenteranno questo bellissimo nuovo polo oncoematologico. Di Sanità Cosenza ha parlato anche il sindaco della città dei Bruzzi, Franz Caruso in merito al nuovo ospedale che ha detto infatti bisogna farlo proprio a Cosenza. Io sono per realizzare l'ospedale hub regionale nuovo perché l'ospedale dell'Annunziata non è più in grado di contenere le richieste che ci sono e che provengono dal territorio. Il nuovo ospedale prevede 700 e 4 posti per degenza noi abbiamo un ospedale che riesce a soddisfare più o meno 450-500 posti. Non è accettabile. Io credo che bisogna veramente andare verso quella soluzione realizzare il nuovo ospedale regionale qui a Cosenza perché ce n'è bisogno. E quindi lo sport Serie B ferma nell'ultimo weekend per gli impegni delle nazionali la Serie C invece è scesa regolarmente in campo e per il Crotone è arrivato un pareggio non pienamente soddisfacente in casa della Casertana pareggio che mister Zauli ha analizzato così. Andiamo io con un po' di l'ammarico per come sono andati gli episodi dopo un ottimo inizio della Casertana che è partita bene ci ha pressato non ci ha permesso di palleggiare e ha trovato ha fatto un bellissimo gol Montalto e la partita è stata quindi nei primi quarto d'ora 20 minuti dove noi non riusciamo a essere noi stessi. Dopo già alla fine del secondo tempo secondo me era finita la buona partita della Casertana è diventata più equilibrata siamo riusciti a prendere un po' di campo abbiamo avuto l'occasione con Gomez e di testa dove è stato molto bravo il portiere poi il secondo tempo è stato subito secondo me la squadra ha giocato con un piglio diverso abbiamo dato più ampiezza abbiamo permesso non abbiamo permesso la Casertana di venirci a pressare quindi abbiamo preso un po' secondo me il pallino in mano e dopo chiaramente dopo rigore e espulsione c'è grosso l'ammarico perché comunque sono state tantissime occasioni per poterla vincere quindi andiamo via con un po' di l'ammarico e se Zauli è amareggiato è invece decisamente furioso per la direzione arbitrale l'allenatore della LFA Reggio Calabria Bruno Trocini dopo il pareggio conquistato dai suoi in casa dell'Acragas lo ascoltiamo io penso che se l'arbitro avesse fischiato quel rigore clamoroso che ho visto adesso negli spogliatori su Rossetti anche i giudizi sarebbero stati diversi domani avremmo avuto due punti in più in classifica probabilmente quattro con quelli della Libonese clamorosi la settimana scorsa ho detto pochi minuti fa che forse bisogna segnalare a qualcuno che questa è una società diversa che Reggio Calabria ha già pagato il Dazio per quello che è successo in passata che ci troviamo in Serie D quindi adesso forse sarebbe il caso che ci indessero le cose e cominciassero a trattarci come tutte le altre squadre cioè giocare una volta a settimana fischiati il rigore quando c'è è roba del genere perché veramente mortificare una prestazione di grande impegno di grande sacrificio Rossetti ha giocato stirato veramente stanno sputtando l'anima poi ci devi dare il rigore perché se Guardadini sbandiera e vede che la palla è entrata a 30 metri deve anche segnalare all'arbitro che dia il rigore perché non puoi non vederlo Guardadini all'arbitro se dia 6-7 metri fischi arbitro punizione contro è facile è mancanza vorremmo arbitrare l'altezza Ci fermiamo qui per il momento io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi auguro buon proseguimento con i programmi dell'altro Corriere TV e vi ringrazio come sempre Grazie per la visione!